La nonna, ti mando la nonna Ehi la, ciao belli Basta che roba Ecco il Francesco, chi è il Francesco lui? Piacere Francesco, e anche io Mi hanno detto ma questo non è Francesco famoso No io non lo conosco Facciamo una panoramica Qui c'è, no no Siamo stretti naturalmente Italian group Qui c'è Ilaria Vai A sinistra Ilaria 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 Ilaria